Il Tempio della Pallamano Triestina e ancora teatro di allenamento per tante società cestistiche aveva da tempo bisogno di un restyling. In particolare le infiltrazioni al tetto visibili in almeno tre punti da tempo destano preoccupazione specie durante la stagione invernale. Il Comune di Trieste ha deciso di intervenire proprio durante l'estate per non creare intoppi all'attività sportiva. Avviati in questi giorni gli interventi per la copertura del tetto e il lastricato che lo delimita. Interventi edili, latoniere, impermeabilizzazioni, pitture e ripristini affidate alla ditta Friulana Costruzioni. Abbiamo dato avvio alla copertura, un intervento importante di impermeabilizzazione. La copertura aveva problematiche di infiltrazioni di acqua, un appalto da 500 mila euro già affidato, già avviato, che contiamo di terminare entro l'estate in modo tale da garantire l'avvio della stagione invernale, ovviamente la stagione sportiva. Non solo i 500 mila euro dedicati al Palo Chiarbola, ma a breve con un affidamento da 150 mila euro verrà avviato anche i lavori di sistemazione delle palestre, sempre problemi di infiltrazioni, lato via Vesinada con un'attenzione anche all'accesso per chi ha disabilità.